Ciao ragazzi, oggi vedremo un filmato su un parassita di alcune piante, in questo caso vedete si tratta di una larva del balanino delle castagne, l'ho preso all'interno di una castagna, si tratta di un parassita che si sviluppa all'interno della polpa delle castagne, appartiene ai curculionidi, l'insetto adulto di cui poi vi mostrerò le foto, è caratterizzato da avere una lunga proboscide da cui il nome del parassita che viene chiamato curculio elefas, proprio perché possiede nello stadio adulto una vera e propria proboscide molto sviluppata, benissimo, la femmina introduce con l'ovopositore all'interno delle castagne le uova che si sviluppano nel giro di 5-8 giorni producendo queste larve che rosicano, come vedete adesso vedrete anche l'apparato boccale di questi, lo sto spostando sotto il microscopio, rosica la polpa della castagna producendo delle gallerie, l'insetto provoca poi a causa di questo la caduta della castagna e poi fuoriuscendo dal terreno dopo che si è nutrito si infossa al suolo, subisce metamorfosi e si libera poi l'insetto adulto, è un coleottero come tutti i coleotteri è dotato di due paia di ali, le prime sono coriacee chitinose a mo' di copertura dette elitre, quelle sottostanti sono quelle membranose che poi consentono appunto, se avete presente la coccinella appunto consentono all'insetto di spostarsi e volare. Vedete sono dotati di queste larve, la femmina in pratica si posiziona su una castagna, depone le uova, queste uova poi si sviluppano, si vengono a formare queste larve completamente diverse dall'insetto adulto, è caratteristica tipica degli insetti perché la metamorfosi non è altro che un cambiamento di forma molto radicale, per cui l'insetto adulto è completamente differente dalla forma larvale. Vedete questi insetti purtroppo infestano molte piante producendo danni notevoli, molto spesso si possono verificare infestazioni nei supermercati nel settore della pasta, dove appunto infestano nutrendosi dell'amido e della pasta, in pratica della consistenza della pasta. Sono insetti abbastanza dannosi. Diciamo che alla fine vi mostrerò anche alcune fotografie in cui vedrete l'insetto adulto, con la sua caratteristica proboscide e appunto la femmina e alcune larve presenti nelle castagne. Vedete la parte anteriore della parado boccale serve a incidere, rosicare la polpa della castagna. Benissimo, qua finisce il filmato, tra poco vi mostrerò le immagini relative all'insetto adulto, quindi ricapitolando, balanino della castagna è il nome volgare, nome scientifico, nome scientifico appunto abbiamo detto curculio elefas. Chiudiamo e andiamo subito a vedere le foto. Subito vi mostro la foto relativa all'insetto adulto, eccola qui, vedete che la caratteristica lunga proboscide, ne vediamo subito un altro su un'altra superficie, è una forma caratteristica, vedete le sei paia di zampe tipiche degli insetti, detti anche esapodi e vedete dove sto posizionando adesso il cursore? Queste sono le elitre che ricoprono sotto, in pratica sotto queste elitre, ci sono poi le ali membranose. Chiudo, vediamo una castagna infestata, vedete, una larva che fuoriuscita dal buco, è già caduta questa castagna sul terreno, dopodiché l'insetto si infossa e si subisce metamorfosi. E poi l'altra cosa che volevo mostrarvi, questa è un'altra castagna infestata, vedete, tutta la polpa è invasta da queste larve e poi proprio il momento in cui una castagna viene infestata, vedete, con l'ovopositore la femmina introduce le uova all'interno della castagna e da quelle uova si svilupperanno gli insetti. Vi ringrazio per la visione, al prossimo video ragazzi, ciao!